Danzano e cercano occhi fra il pubblico quelli di mogli, figli, madri, braccia che potranno stringere a fine spettacolo. L'emozione si sente, si tocca, si taglia in occasione della prima nazionale di Intus Petriva, protagonisti gli ospiti della casa circondariale di Brindisi e le loro famiglie che per la prima volta insieme trasformano un luogo inaccessibile in un teatro. Il progetto che porta la firma di Alfa ZTL e compagnia d'arte dinamica direzione di Vito Alfarano è inserito, grazie alla proficua e consolidata collaborazione con il garante delle persone private, della libertà personale della regione Puglia e l'istituto penitenziario di Brindisi, nel cartellone della Brindisi Performing Arts sulla cui sezione estiva cala il sipario. Cosa mi hanno detto? Sono rimasti stupiti, ho visto i loro visit, vieni di pianti perché comunque anche loro si sono emozionati dal tema che abbiamo portato qui in questo istituto, in questa danza e questo è tutto grazie a chi l'ha inventata veramente questo tema perché un tema comunque è odierno, la violenza sulle donne, l'omosessualità, l'omofobia, c'è tutto, c'è tutto, che stiamo parlando di Frida Kahlo, che stiamo parlando dell'Ottocento, l'abbiamo trasformata in una cosa contemporanea, in una cosa moderna. Oggi è stato particolarmente emozionante, devo dire che nonostante avessi visto le prove e ci fosse stata un'anteprima, oggi veramente sono passate le emozioni, sono stati davvero bravi. Allora basta vedere chi siamo in questo quadro, ok, per capire che siamo solo una parte delle persone che hanno realizzato questo spettacolo, ci sono tante anime, tanti cuori e uniti assieme, provate a immaginare cosa possa essere venuto fuori, vi aspettiamo a ottobre in teatro.